ciao e bentornato sul canale oggi un video su cosissimo infatti parleremo di tutte le novità parleremo di tutte le novità che potremmo aspettarci nel prossimo release di casa apple di ios 18 è tanto che non viene effettuato un aggiornamento importante ma i rumors ci dicono che il prossimo potrebbe essere un aggiornamento rivoluzionario in questo video andremo a vedere quali sono i rumors più accreditati e le possibili nuove funzionalità che ci fanno dire che il prossimo ios 18 potrebbe essere rivoluzionario andiamo a scoprire insieme tutte le possibili novità e se effettivamente potrebbero essere rivoluzionari come ci promettono il famosissimo giornalista mark urman per tutti gli appassionati non è un nome nuovo tiene una rubrica un podcast per tutti i rumors e le novità che riguardano l'ambiente apple secondo lui ha raccolto diverse indiscrezioni che provengono dal mondo degli sviluppatori e dagli attenti osservatori del panorama apple il prossimo sistema operativo ios 18 potrebbe essere rivoluzionario vediamo perché a quanto pare potrebbe avere quattro novità fondamentali allora l'ultima la diciamo per prima perché è quella meno succosa secondo lui potrebbe portare l'apertura da parte di apple a nuovi store in realtà questo dovrebbe avvenire anche prima potrebbe avvenire con le ultime release di ios 17 proprio perché apple è stata costretta a farlo quindi questo non ha niente di rivoluzionario e soprattutto penso che arrivi prima di ios 18 ciò che invece renderebbe ios 18 effettivamente rivoluzionario sempre fra le mitiche virgolette sono tre aspetti che finalmente apple ha deciso di curare e sono l'interfaccia grafica che a quanto pare porterebbe delle grosse novità sia da un punto di vista di personalizzazione e per quanto riguarda l'interazione con l'utente da questo punto di vista mi aspetto invece qualche cosa nel senso tale che modificare l'interfaccia utente per permettere una più flessibile più comoda e più veloce interazione fra l'utente e il dispositivo sarebbe veramente qualcosa di importante potrebbe essere qualcosa di effettivamente rivoluzionario nel senso tale che così come il multi touch all'epoca del primo iphone rivoluzionò il nostro modo di utilizzare un dispositivo un qualcosa di nuovo potrebbe fare la stessa cosa o effettivamente non mi viene in mente o al momento un qualcosa che possa essere così tanto rivoluzionario ma nel mio cuoricino ho la speranza che ciò possa succedere effettivamente sarebbe anche molto interessante se si potesse andare in qualche maniera a personalizzare il nostro dispositivo è da tanto che mi chiedo il motivo per cui apple non abbia mai regolamentato questa cosa nel senso tale che esistono le faces per l'orologio perché non creare uno store di faces sul quale anche gli utenti possano pubblicare le loro e permettano ad altri utenti di scaricarle creando delle specifiche tecniche molto rigide molto restrittive quello che ti pare a te in modo tale da non compromettere l'estetica e la funzionalità del dispositivo però darebbe la possibilità a chi vuole di poterlo assolutamente e customizzare stessa cosa di casi per iphone e per i computer mac os e per l'ipad che mamma apple ci voglia stupire in tal senso staremo a vedere il secondo aspetto che potrebbe rendere ios 18 rivoluzionario è siri staseri ci ha veramente fatto due marum così nel senso tale che è stato il primo assistente virtuale ad essere proposto sul mercato all'epoca del buon iphone 4s ancora presentato da steve jobs e fu qualcosa veramente veramente sensazionale perché all'epoca non c'era niente nel frattempo tutte le altre aziende hanno corso una cifra e apple è rimasta col bastoncino nel senso tale che la povera siri è veramente di cocco a quanto pare è stata sviluppata in un modo tale che renda molto complicato gli aggiornamenti e la possibilità di aggiungere nuove funzionalità ci hanno sempre detto che avrebbero dovuto riscrivere da capo il codice ma la domanda sorge spontanea un'azienda del calibro di apple con le potenzialità economiche di apple forse nessun altro al mondo ha queste possibilità che cazzo aspetta a riscrivere da capo il codice di siri infine quello che diciamo l'ultimo aspetto di questi rumors a poter rendere rivoluzionario e questo onestamente mi sembra un po' un paranone per questo punto è l'introduzione da parte di apple dello standard rcs per l'invio e la ricezione dei messaggi cosa che android ha fatto già da tempo adesso andiamo ad approfondire tutti questi argomenti abbiamo detto che i primi due punti che renderebbero ai us 18 una release rivoluzionaria rispetto alle altre potrebbero essere una nuova interfaccia grafica e l'introduzione da parte di apple dell'intelligenza artificiale generativa all'interno di siri non voglio trattare questi due argomenti in modo separato anche perché dal punto di vista dell'interfaccia grafica abbiamo veramente ben poche notizie però i due argomenti potrebbero essere in qualche modo correlati fra loro infatti diciamo che ormai l'intelligenza artificiale è diventata la tecnologia più di moda del momento con l'introduzione di chat gpt e la sua esplosione adesso tutti vogliono la loro intelligenza artificiale generativa per produrre contenuti per produrre la qualunque a quanto pare apple sarebbe interessata ad introdurre finalmente all'interno di siri ma non solo un motore di intelligenza artificiale generativa questo che cosa significa che noi potremmo ritrovarcelo all'interno delle varie app di apple ognuna con la sua funzionalità come per esempio apple music come per esempio la suite pages numbers e keynote questo che cosa rappresenterebbe rappresenterebbe un'introduzione appunto dell'intelligenza artificiale all'interno di specifiche app con il compito di aiutarci ad utilizzare quelle specifiche app per esempio in musica potrebbe analizzare completamente i nostri comportamenti e suggerisci sempre nuove canzoni che secondo lui potrebbero piacerci nelle applicazioni con le quali andiamo a lavorare potrebbe supportare il nostro lavoro potrebbe aiutarci a scrivere documenti potrebbe aiutarci a lavorare foglie di calcolo potrebbe aiutarci a creare delle nuove presentazioni ma diciamo che questo potrebbe essere solo un aspetto importante e per niente male dell'introduzione dell'intelligenza artificiale perché perché l'intelligenza artificiale potrebbe essere inserita direttamente in siri questo che cosa significa e per quale motivo si andrebbe a collegare con la nuova interfaccia grafica ogni volta che pensa all'intelligenza artificiale e niente da fa io penso al buon iron man che utilizzava il suo anzi perché iron man tony stark che utilizzava jarvis quella secondo me è l'intelligenza artificiale alla quale noi dovremmo puntare perché primo non frega il lavoro a nessuno nel senso tale che ti aiuta ti supporta ma le idee devono essere le tue secondo perché fa tutto qualsiasi cosa dice jarvis jarvis fammi il caffè jarvis fai qua jarvis fai là e questo che cosa significa che apple sta puntando a un'introduzione a una fusione di un'intelligenza artificiale all'interno di siri e questo permetterebbe le funzionali che modifiche alla interfaccia grafica questo perché perché effettivamente se noi andiamo ad utilizzare il nostro telefono sfruttando per qualsiasi tipo di funzionalità questa intelligenza artificiale effettivamente potremmo assolutamente snellire l'interfaccia grafica potrebbe non essere neanche più necessario andare a cliccare sull'app questo potrebbe essere un aspetto che potrebbe effettivamente rivoluzionare questo aspetto del nuovo ios 18 in più come detto come anticipato prima che cosa vuole fare apple introdurre questo motore di intelligenza artificiale per migliorare la possibilità di dialogare con siri da qui la possibilità appunto di tutto questo modifichamento e poi ci sta chiaramente l'introduzione all'interno dell'app messaggi per modificare correggere elaborare aiutarci a scrivere i nostri messaggi ma onestamente questo mi sembra l'aspetto meno figo di tutta la faccenda quindi la speranza qual è che effettivamente apple innanzitutto se sia scritta un sistema di intelligenza artificiale generativa coi coglioni diciamocelo chiaro e tondo perché ce ne stanno tante di intelligenza artificiale generative in giro ma quelle che effettivamente hanno un senso si contano sulla punta di una mano e che effettivamente decida di introdurlo nel suo nuovo sistema operativo debolto nel senso tale che non mi rilasciare solo una piccola cosina che mi fa venire l'acquolina in bocca e poi piano piano come è storia apple mi rilascia tutto il seguito quindi su questo aspetto nutro grossi dubbi grosse perplessità ma anche grandi speranze staremo a vedere e per finire l'ultimo aspetto che ha indotto garman a definire a us 18 una release rivoluzionaria è l'introduzione da parte di apple dello standard rcs per l'invio dei messaggi che cosa significa dovrebbe essere un sistema di messaggistica completamente parallelo rispetto dai messaggi che rimarrà un'esclusiva apple e che probabilmente per l'invio di messaggi tra utenti apple rimane la soluzione migliore l'introduzione di rcs che permetterà di fare ha giusto un piccolo escursus rcs è uno standard per lo scambio di messaggi già da tempo introdotto nei sistemi nel sistema android quindi tutti i telefoni android possono tra loro comunicare con questo standard infatti la preoccupazione qual è è che effettivamente garman definisca rivoluzionario questo scenario questo ai us 18 perché rivoluzionario effettivamente non è tanto quello che verrà inserito all'interno della release quanto piuttosto il fatto che apple lo inserisca questa è la mia grossa preoccupazione al riguardo comunque dicevamo rcs è uno standard che permette l'invio di messaggi con tutta una serie di arzigogoli che noi utenti ai message già conosciamo da tempo e sono le notifiche di lettura la possibilità di invio di immagini e video in alta risoluzione la notifica che l'utente dall'altra parte sta digitando quindi diciamo è un modo per arricchire i vecchi sms fondamentalmente ben venga ma di certo non mi sembra sta grande rivoluzione in più c'è da dire che il motivo per cui apple lo andrebbe ad introdurre anzi qui toglierei anche il condizionale perché c'è stato anche un comunicato che nel 2024 apple supporterà questo formato quindi diciamo questo più che rumor è qualcosa di abbastanza concreto ma lo effettuerà solo ed esclusivamente perché il parlamento europeo ha una normativa in tal senso che prevede che le grandi multinazionalità sì multinazionalità le grandi multinazionali abbiano dei sistemi di interoperabilità con le varie piattaforme e quindi permettano lo scambio l'interoperazione appunto tra piattaforme diverse quindi staremo a vedere premesso che tipo la settecentesima volta che faccio suo finale vabbè ma questo è un dettaglio a questo punto direi che non ci resta che aspettare tenere le dita incrociate in tutto ciò tra il momento in cui ho registrato questo video e il momento in cui lo sto pubblicando c'è stata una buona notizia direi anche ufficiale perché è venuta direttamente dalla boccuccio del buon Tim Cook che ha lasciato e devo dire la verità anche straneamente un piccolo spoiler su quello che sarà il prossimo anno di Apple nel senso tale che lui ha annunciato che sarà un grande anno dal punto di vista dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei prodotti Apple e che molto probabilmente iOS 18 sarà un sistema operativo una versione del sistema operativo del telefonino del melafonino abbastanza rivoluzionaria a questo punto ragazzi non ci resta veramente che aspettare per tutti gli amanti dell'iPhone come me tenere le dita incrociate ragazzi questo è stato un video piuttosto lungo se siete arrivati fino a qua anzi questo è stato un video piuttosto lungo se sei arrivato fino a qua non posso che ringraziarti e chiederti di commentare con le tue idee cosa ne pensi al riguardo in modo tale da creare un bel dibattito grazie ancora bel pollicione e iscriviti al canale ciao